L'importanza strategica del porto di Gioia Tauro è una delle opportunità prioritarie per la realizzazione dello sviluppo socio-economico non soltanto per il territorio calabrese, ma per l'Italia intera. Questa mattina, ai microfoni di Telemia, abbiamo ascoltato alcune dichiarazioni del commissario straordinario dell'autorità portuale Andrea Agostinelli. La Calabria e i calabresi potranno vivere il sogno che lei da tempo ci sta offrendo volto ad avviare una nuova fase alimentata dalla blu economy. Io ci credo tantissimo, la Calabria deve essere cosciente di avere nel suo territorio un grande porto. Questa è la prima missione che noi abbiamo, portare a conoscenza della società civile calabrese dell'importanza strategica di questo porto nel panorama portuale nazionale. È un porto straordinario, abbiamo gli spazi retroportuali a disposizione, abbiamo il più grande interland italiano, diciamo così, quindi un retroporto vastissimo che si sviluppa su 175 km quadrati e quindi abbiamo delle potenzialità infinite. Bisogna fare squadra però, bisogna creare una comunità portuale, bisogna creare un network di investimenti e sotto questo profilo la creazione della ZES sarà molto importante. Il Gateway, la ZES e la ripresa della movimentazione registrata nel 2020, potranno rilanciare la portualità di Gioia Tauro, secondo lei? Beh, io ci credo, lei sa che abbiamo realizzato, collaudato e messo in esercizio un Gateway Ferroviario, era un nostro vecchio sogno di avere la possibilità anche di far uscire i treni via ferro dalla Calabria. Ci sono altre problematiche collegate su cui magari più tardi tornerò a soffermarmi. Ripeto, con il Gateway Ferroviario e la ZES noi abbiamo immense possibilità di sviluppo. Quali sono, secondo lei, i passi strategici che il nuovo governo dovrà riservare al porto di Gioia Tauro? Beh, è quello che abbiamo anche sottolineato con i vecchi governi, con i vecchi ministri delle infrastrutture e dei trasporti. Si tratta dell'alta capacità. Aver costruito un Gateway Ferroviario da cui escono convogli lunghi solo 550 metri è probabilmente insufficiente. Voi sapete che nella programmazione infrastrutturale nazionale c'è l'alta velocità e l'alta capacità sulle dorsali tirreniche, ioniche e poi adriatiche. Questo permetterebbe di sviluppare un traffico ferroviario finalmente all'altezza. Capiamo che sono lavori di lungo periodo, di immensi investimenti, ma è quello che sarebbe necessario al porto di Gioia Tauro per non essere più considerato un porto di trasbordo ma essere considerato anche un porto di uscita delle merci e quindi di un porto Gateway.